C'è un'esplorazione cariamo un po' perché è una disposta fantastica perché questo è un luogo dove portavano il grano col treno e portavano qua, portavano a macinare per darlo da mangiare alla città, la città di Pavia accampato con questo luogo, grazie a questo luogo veniva il grano col treno, perché qua poi si tradiziona soprattutto lì, veniva il grano col treno e lo lavoravano qua, per trazione cari amici, al 3 di agosto del 2019 e questa comunque è la parte della torre e queste le case ecco il bocciare da dove proveniva e adesso ricominceremo a salire dovremmo ricominciare sempre da giù ricomincerò giustamente giustamente e con attenzione senza farsi prendere dalla frenesia li prenderemo a salire perché ci sono alcune finestre che sono un po' in una zona pericolosa come quelle là bisogna stare attenti a dove si mette i piedi a salire e qua dalla bellissima Pavia che è un po' in una zona pericolosa ma di stare e questo è necessario ad essere a salire Giannaro Germini, youtuber Mauri. Siamo qua. Questa è stranaio di Pavia. Pavia all'ex deposito del grano dove veniva appassato tutto il grano perché qua di solito in Pavia producevano il riso. Il grano invece lo portava dall'altra parte e qua lo lavorava. Ok. Assolutamente. E' un'esplorazione Mauri. Benissimo. Prendi la valise. Bene, io prendo la borsa. Io prendo la costretta borsa. Notare, vi dirò cari amici cosa ha fatto. Mia madre ha detto. Allora, non è che mia madre ha detto attenzione a questi posti abbandonati, no? No, mia madre non ha detto attenzione a questi posti abbandonati. Ha detto bello, bello. Bello, bello. Ha detto mi raccomando non mettere la tracolla troppo vicino al collo. Sistemati bene. Tutto perfetto. Perché cari amici l'importante è essere perfetti. Davanti tutto rotto. Guardate, per fare contrasto, no? Ah, certo. Fantastico. Sei perfetto però. Davanti tutto distrutto. Bene, iniziamo. Iniziamo l'esplorazione. Salvo a zanzare. Vabbè, dai, intanto niente, andiamo. Allora, qui, ecco, io accendo assolutamente l'altra. Alcuni punti sono veramente bui, ma non tanto, eh. Non tanto. Benissimo, cari amici. Qua, a vari locali, dove si può, inizia proprio, e qui dove veniva anche giù il granale, il grano. Adesso, prima di tutto, andremo in un locale, dove si vedono tante bocchezioni, tante bocche, da cui veniva giù il grano. Il grano già diviso, quindi la pula e le altre cose, da una parte, il grano da una parte. E le due inizio, cari amici. Sì. Sicuramente, non si fa anche per noi, se ci sono anche, come ti ho anche, ovviamente. E qua, evidentemente, c'era su, come si chiama quello? Un nastro rotatore. Un nastro rotatore. Sì, o un corrimano che portava, un nastro che portava assolutamente il grano. Ecco. Guardate, cari amici. Sì, sì, infatti. Ecco. Qui doveva esserci un nastro trasportatore che il grano da sopra lo faceva scendere di qua. Vedete il grano? Sì, qua ci sono le bocche. Ci sono tutti i bocchettoni con grano che... Ogni bocchettone ha una diversa tipologia di farina. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. 12 bocchettoni. 12 tipi di farina. L'hanno chiuso prima. Quindi, la farina già veniva richiesa per 12. C'erano diversi, 12 tipologie di farina che si andavano qua. E qua c'erano altre trasportatore. Vedete che poi continua anche fino avanti. Vedete che poi continua anche fino avanti. Ecco, le luci. Guarda, altri bocchettoni. Altri bocchettoni che veniva giù la farina. Sì, guardate cari amici quanti sono. Sì, questa era una zona di selezione. Selezione, sì, delle farine. E scendeva. Quindi, un'idea, Mauro, così al volo. Questo è un lavoro proprio pieno. Di pieno, di pieno. Qui stanno qui e c'erano grandi frenesi. Molto frenesi del posto. Ma proprio qua lavoravano di buona lena, eh. Di buona lena, perché qui immagino che... Per tutta la città di Pavia. Arrivavano in cennio, scaricavano. Sì. Per tutta la città di Pavia. Notate, cari amici, qua proprio il grano per il pane, per la pasta, per tutta la città di Pavia. Si alimentava tutta la città di Pavia. Ehm. Tra il 1800 e il 1900. E forse anche prima. Sino al 1900, poi sapete già, col secolo nuovo, tutto è cambiato. Ormai viviamo in un mondo strano. Ehm. I bocchettoni. Qua hai due bocchettoni di selezione. Ma adesso, assolutamente, guardate che ci porto incredibile, l'archeologia industriale. Ecco, una società, una società voleva buttar giù tutto di questo. L'hanno prendito, perché qua c'è anche l'archeologia industriale. Da lunedì al venerdì c'erano i bulldogger, c'erano, stavano per rompere qua. Volevano buttare di tutto. Non l'hanno buttito. Perché è storico, bellissimo. Perché questo sarebbe un posto da riprendere, da riprendere. E andavamo di sopra. E invece stavamo in sulle scale. Adesso ci accendiamo su quelle scale. Io, a questo punto, porto anche, benissimo, metto via la torcia. Perché c'è abbastanza luce. Questo è un tavolo di lavoro. Andiamo alla torre del magazzino del grano. Qua via. Da quella scala lì. Mi prendi, Mauro, da qua. Io salgo sulla scala. Mi faccio vedere. Damiro, prendimi che salgo sulla scala. Per salire a scena. Sì, sì. Cari amici. Un po' di scena. Un po' bello il video. Ci sale. Quindi la maestosità. Per questo ho voluto riprendere le mano sopra. Ma assolutamente ho voluto riprendere il nuovo da basso, da sotto. Perché è bello il salire. È positivo, no? Tutti vorremmo salire. Puoi essere un video. Tutti vorremmo salire. Perché la scoperta poi è in salita. Tutto è bello, il positivo è in salita. Allora che bello. Saliamo la scala. Ecco per i amici. Prenda, Mauro. Vieni, vieni. Prendo la macchina. Aspetta. Ti riprendo da su. Eh? Così il letto positivo anche del Mauro. Saliamo. Salire. Salire. Salire sempre. Sempre salire. Bene. Questo è un primo. E qua. Qua, cari amici. Vedete, come pare, anche le colonne d'acciaio linux. Che poi, vabbè, col tempo tutto naturalmente si fa rutine. Anche inassudabile. Però, ehm, proprio per tenere delle colonne. E queste sono le classiche colonne delle fabbriche. Fa vedere un po' tutto Mauro. Ma queste le colonne delle fabbriche. Le colonne delle fabbriche. Le colonne delle fabbriche. Bene. Ci aggiungiamo. Sì. E di qua. Assolutamente. A salire. A salire. A salire la torre. Tanti sono attenti. I finestroni laterali. Sono enormemente grandi. E, ehm, si potrebbe cadere, eh. Mi raccomando. Non caderemo assolutamente. Staremo attenti. Lo dico per chi, insomma, per motivi evidenti. Staremo attenti ai finestroni enormemente grandi. Si continua a salire. E adesso mi ricordo che, però, la parte della torre è dall'altra parte. Quindi, concludiamo. Vieni pure, Mauri, perché è bello da far vedere. È bello da far vedere. C'è ancora tutto, tutte le assi di legno. Però cosa succede? Un po', vedete, è tutto malmesso. E quindi, alla torre si va dall'altra parte. Però, a notare, queste parti di legno sono assolutamente antiche. Notate, questo è legno proprio molto antico. E continuiamo a salire, però, dall'altra parte. Eh, Mauri? Ciao, bravo. Queste sono le canaline da cui scendeva il grano da sopra. E questo, una vecchia luce. E qua, all'esterno. Questo è il quadro elettrico, i contattori elettrici. Di qui. E, guardate, luce mulino, la luce scala. Bellissimo, le varie luci. Bene, Mauri. Vieni qua che continuiamo, cari amici. Ci stavamo organizzando per salire. Per quale motivo ci stavamo organizzando? Perché, praticamente, qua bisogna capacitarsi di volta in volta dove le scale sono posizionate. perché, eh, non è mai detto che si può si confondere. Infatti. Però, benissimo. Vieni qua, Mauri, magari si guarda meglio. Ok. Eh, tra i vari androni. Allora, praticamente, troviamo vari androni, cioè, locali, vari locali. Tutti così, nel senso, prima volevano buttare più il posto. Non avendero potuto buttare più, bisogna ristrutturarlo. I soldi, ovviamente, non ci saranno. Sapete come va. Cioè, generalmente sapete, quindi potrete immaginare. E l'hanno puntellato. Questa è la parola simpurezza. L'hanno puntellato tutto. E, eh, quindi bisogna capacitarsi tra tutti i vari locali. Un puntellato così. E certo. Dove dirigersi. Ora, sapendo che la torre è in là, si sforza in là. Bene. Benissimo. Quindi si sale la torre, Mauri. Esatto. Prendi la videocamera. E poi c'è l'era avanti. Va, che qua. Fa vedere bene i contattori. È una favola. È il contattore del Molino, cari amici. Guardate. E vanno ancora... Guarda. Guardate. Sono vecchi dell'ottocento. Vecchi dell'ottocento. Ma... Ancora... Ancora... Gira la rotella. Ancora va. Bene. Si, è corrente. Benissimo. E ci sale, Mauri, eh. L'impressione... L'impressione... L'impressione è troppo stoci. Qui si cammina sulla storia, qui, eh. Si. Bravissimo, Mauri. Si cammina sulla storia. Si cammina sulla storia. Si cammina di Mauri. Lui ogni tanto ha quel tocco geniale. Si cammina... Non sempre, ma... Si cammina sulla storia, cari amici. Si cammina sulla storia. Si cammina sulla storia. Si cammina sulla storia. E non si cammina... E stare attenti a camminare sulla storia. Si cammina sulla storia. Sulla storia, sui bucchi. Se perfetto le macchine un po' Se perfetto le macchine un po', cari amici. Di lì. La scala dovrebbe essere... Un po' tra il buco lì. Se perfetto le macchine un po'. E' stato coperto da un coso. Sì amici. Prima la nostra sicurezza è guardare dove camminiamo. Perché sono zone abendone. E dopo vedere dove filmare. Perché, per esempio, in provincia di Varese a Cittillo Uno è andato alla cascata di Cittillo a filmare. Per fare le foto è caduto. Eh. Non sta attenti. Non sta attenti a tutti. Qua, come al prusueto, una alla volta. Qui c'è una pittura. Belle piante, fantastiche. Bella natura. Che si prende il possesso del posto. Che si sale, cari amici. Saliamo alla torre del magazzino del Drano di Bavia. Venite, cari amici. Qui cattoleno. Poi era a piante nero. Sì. Era a battersi, primo piano. Qua siamo già al primo piano. Qua siamo al primo piano. Evidentemente, qua erano chiusi questi posti. Viene pure Mammo. Facciamo vedere. Erano chiusi. E qua c'era un campanello per suonare. Quindi si veniva qua. Si suonava il campanello. Trin, din, din. Come facciano quei campanelli? Eh, Mauri? Trun, trun. Odindon. Odindon. Sì, la seconda. E si veniva e anche qua si buttava giù il grano. Se riesco, se non cado di sotto, vedete anche qua si sminuzzava il grano e andava giù. Vedete questi anfratti? E qua, beh, ci sono delle case d'abitazione perché siamo in centro. Ma sembra tutto a posto, cari amici. È il 3 di agosto. Si, si continua, Mauri. Viene. Allora, come dicevo, bisogna stare assolutamente attenti alle finestre. vedete che la barra ustra, se non so, per quanto tiene, vedete un po' po' le fa. Va bene, Mauri, vedete? Tiene ancora. Perché le finestre sono troppo basse. Non state così, per carità. Non, vedete l'ingastro di qua. Mi raccomando. Compre al corrimano. Compre al corrimano. Qua sono nato per farvi aprire. Eh, bello quel quadro lì. Il quadro, Mauri. È un peccato che... È vero, è bello. Si, fanno un po'. Ho disegnato bene. Si, prendimi. Chiari amici, non so, sembra la famiglia dei Promessi Sposi, Alessandro Mangioni, sapete un po'. Peccato che a questo bellissimo quadro qualcuno abbia messo le X sopra, cioè sarebbe da sistemare. È bellissimo. Sono quelli murales... No, ma quelli murales, Mauri, bello. Sono quelli murales belli da... Ecco, la coppia, la coppia, come non so, marito, moglie, che ne so, e l'angelo. Non dà quell'impressione. Si, dà quell'impressione. Eh, Mauri, a te come... Si, dà, che impressione. Che, che dici? Ma ti... Fa come se fossi... Fa come... Come essere uno che si intende di arte, no? Ci intendiamo di arte a modo nostro. Il mio angelo ci sono disegnato quello della sostanzia che aveva fatto certo, ma... Comunque è stato fatto un bel disegnino. Bello, bello. Mi piacciono queste cose perché è arte come se fosse un quadro. Cioè, invece di essere un muro vuoto... Anche l'elettrico con Gennaro Gelmini. Eh, invece di essere un muro vuoto, c'è qualcosa che dicevano, che facevano i murales, che loro quando vedono una parete bianca devono metterci qualcosa. Perché... Eh... Una parete bianca... La considerano... Cioè, manca qualcosa. Mauri ha trovato un numero, un... Qua c'è scritto 1923. Si vede che avevano fatto, non so, qualche lavoro nel 1923. Perché questo dovrebbe essere anche precedente. Vedete, 1923. Dovrebbe essere anche precedente. Questo si potrebbe essere dal 1600. Eh... Stiamo salendo, cari amici. Vedete che ci sono dei buchi qua? Eh... È pericoloso questo posto, a non andare nei punti giusti. Ma noi da questa scala, assolutamente che tiene ancora, eh, ce la facciamo Mauri. Sì. L'ultimo tratto. Stiamo prestando attenti. Andiamo in questo. Ma qua, Mauri, dovresti anche... Se fare un muro un po', è una zona con cede, vedi qua? Eh, sì. Sì, sì. Sì, sì. Infatti. Vedete, cari amici, virtualmente, per tutti, eccoci, ritornati in questo bellissimo posto. Abbiamo sentito addirittura il scuolo del treno, perché il grano qua lo portiamo anche il treno, perché praticamente si faceva soprattutto qui a Pavia il riso e quindi il grano veniva portato col treno. bene. E che dire? Benissimo. Eh, siamo i primi. Io lo dico un attimo. Cari amici, queste cose le abbiamo posizionate noi, ma c'erano assolutamente già. Qua di solito si vede che di nozio si accampa, eh. Però cos'è importante? Siamo assolutamente i primi urbex, siamo i primi urbex a venire qua. Questo lo dico perché finalmente, live, ci vedete un cari amici. ci sono le case, ci sono le difficoltà e tutto e immaginate cari amici, bisogna stare attenti a tutto. Bene cari amici, si continua. Si continua, si continua cari amici. Facciamo un po' di pausa adesso. No vabbè. Ok. Cos'è la cosa più bella dell'urbex? Qual è la cosa più bella? Eh, che vabbè, naturalmente sono costi avventurei. Cos'è che un urbex ha più piacere? Un urbex è il vostro tranquillo, non si è percentato da persone che vengono. Ma non solo. Un urbex vuole arrivare prima degli altri. Beh, quello si intende. A volte gli urbex non ce l'hanno fatto e ci sono quelli che vogliono rispondere, e quelle prime e quelli che si passano la parola. Allora, cioè tu vuoi arrivare prima e c'è più versione, magari di più, è esattibile. Io direi, è bello andare a vedere tutto su Samoni, che è bello però anche arrivare prima. In questo caso, cari amici, siamo arrivati primi al deposito del grano di Pavia e adesso siamo alla torre del deposito del grano di Pavia. Cioè è una torre che abbiamo fatto 500 piani di scari. Quindi granaio di Pavia, il grano dove miscelavano le farine. Quindi farina di grano macinata, farina per fare la polenta, farina per fare il grano integrale. E' una roba particolare, ci sono vari tipi di farina. Beh, noi non è che siamo dei grandi esperti, dovremmo, prima Giebe si servirebbe prima con documentali. No, aspettate Mauri, il punto qual è? No, aspettate Mauri, noi già facciamo la gran fatica del grano di Pavia e siamo assolutamente i primi urbeci ad entrare. Allora, questo è il deposito del grano di Pavia, abbiamo detto, siamo i primi. E' stato difficile perché si passa su un villaggio dove prima c'era il mulino. E' assicuro che c'è rischio. No, 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 è fattibile. E' fattibile però non bisogna scherziare. Però ricordatevi, la rete tiene fuoco, uno ha cercato la rete, la rete poi tiene fuoco. Perché è una rettina che è stata anche sfondata per la rivoluzione che passava. Ma vediamo all'esplorazione, cari amici, perché sicuramente l'interesse è l'esplorazione, quindi non siamo l'unico. Però è un po' più grande. Sento del bocciare, non so se poi... No, ti spiego, è un effetto eco. No, 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 ti spiego. Quando verrete qua c'è l'effetto eco. C'è l'effetto eco del fiume e c'è l'effetto eco qui, le case. Si parla delle case, le palazzine che ci abitano. Si parla delle palazzine e rimbomba nell'algo del fiume e rimbomba su qua. E se non è che parli non da qua, non lo sapete. Comunque, ritornando, siamo quindi al deposito nel grano di Padilla. I primi urbex in assoluto, Gennaro Bellini, youtuber Mauri, quindi video urbex Milano. Esatto. Mauri. E fantastico posto perché sono i primi. Quindi, appunto, passando dalla zona del vecchio mulino, una stradina, il centierino, e c'è il vecchio mulino che la palla non c'è più, però è un maschio scanticello, e bisogna passare proprio a ridosso di una rete, perché hanno costruito poi il maschio. come costruito però non hanno lasciato però uno spazio del centro. Praticamente, tra la recinzione e la parte del mulino, si passa proprio a pelo rasio. e infatti lì, e lì, poi ci sono anche le spie, ma non è tanto le garacce, assolutamente, anche le spie, non è tanto le garacce. Le spie, bisogna avere, per quanto è lunghi, non sapete come neppe che guardate, ho fatto una grandissima cartellata. Cari amici, sopra il luogo, lo fatto di inverno, e poi l'urbex d'estate. Siamo all'agosto, il ponte di dicembre, c'è la neve, c'è la neve, poi lo fanno. C'è la minima differenza, no, è anche perché non è una schia. Va bene, dai, vediamo l'esplorazione qua. Ecco il Mauri, continua anche lui, giornata fantastica, qui al deposito del grano, a Pavia. Ecco l'orologio rotto, non sono le 11.10, però siamo qua a Pavia, è l'una del pomeriggio, se volete sapere. per il luogo fantastico, per l'urbex d'estate. bene Mauri, carissimi, carissimi, ci siamo riusciuti. ma contento, perché è un bel costruccio, non vedevo tanto. Però adesso è il momento del riposo, poi iniziamo a fare gli ultimi pezzi. Sì, sì, ci stiamo dati tanto, cari amici, e qua ci sono soprattutto scale da salire, scale belle lunghe. Gravitissimo a Murales, qui, veramente bello, alle scale della torre, qui, a Pavia. E' Mauri, eh? E' bene, con questo è un buon Murales, graditissimo a Urbex, qui a Pavia, cari amici. E adesso scendiamo giù al navigliaccio. Ok. Quindi le stanze puntellate da una parte e un contenitore dell'acqua, il cemento dall'altra. E' la natura che prende sotto il vento. E si continua, cari amici. E cari amici, che bello, eh? l'arte e la natura. Piante di edera, che sono entrate dall'esterno in qui. qui è il giardino esterno, se vogliamo. Qualcuno ci sta osservando. e noi eravamo in quella torre lì. E' questa, cari amici, la parte del mulino, da qui, da un ponticello del mulino, dove macinava il mulino, e siamo entrati. E questo, è l'esterno. E' il deposito, questo è il deposito. Quindi, Mauri, bene, facciamo vedere i nostri amici, che, quindi, il pensiero, eh? Eh, stiamo camminando nella storia anche fuori. Sì, sì. Si cammina nella storia, ma storia vecchia. si continua a camminare, salvo qualche zanzara. Eh, qua sono aggressive, ma... Bellissimo. Quindi abbiamo il mulino nella parte, senza più la pala, quello che rimane, e il deposito, e poi il deposito dall'altra. Eh, e si continua. Vedete? Pana panoramica, Mauri. Questo bellissimo posto, perché è la storia. Qua si macinava il grano per tutto il comune di Pavia. Tutti a Pavia mangiavano il grano qua, perché la Pavia si coltiva soprattutto l'origine delle campagne. Il grano, per la pasta che si veniva, proveniva dal treno, dalla ferrovia, e lo macinavano. Qua i variandronici abbiamo... I variandronici abbiamo esplorato prima. e qui possiamo vedere, osservare la torre. Ecco, cari amici, la torre finalmente, la vediamo, la torre che abbiamo esplorato poc'anti. Siamo saliti fino là sopra. Sopra, sopra lì. Siamo saliti. E qui poi abbiamo anche delle chiuse. E vedete tutta la parte che abbiamo esplorato. Qua il mulino. Va bene, Mauri? Ok. Per questa esplorazione è niente. Per l'arte, cari amici, perché l'urbe, ovvero, che è tutta una roba vecchia, è una riconquista di ciò che ci appartiene. In che senso? Ci riappropiamo del nostro passato per tentare di dargli un futuro. E adesso il saluto finale all'esterno. Ciao, ciao. Qua una volta avevamo quindi bei mulini. certamente, sicuramente con le chiuse. Perché le chiuse? Le chiuse per l'acqua. Per mantenere sempre l'acqua costante, sempre la stessa altezza, la stessa quantità d'acqua per far girare le pale dei mulini. E qua abbiamo il nostro bel navigliaccio con le campagne lì e quindi il nostro bel mulino e il nostro bel navigliaccio. e il nostro e cari amici anche questa volta ci siamo riusciti Mauri perfetto è andata benone a poco cano ci vedete c'era diciamo era siccome batte il sole qui mi sono appoggiato abbiamo trovato dove mettere la videocamera su una parte di metallo e possiamo fare l'ultima ripresa ok ci siamo riusciti quindi al 3 agosto 2019 Gennaro Giulmini e Mauri di The Urbez Milano qui a Pavia siamo riusciti il deposito nel grano fantastico cari amici un bel like iscrivetevi ok e Mauri quindi l'ultimo pensiero fantastico questa favolosa giornata è stata un'avventura comunque è andata bene è stata un'avventura è stata proprio un'avventura ed è andata bene e The Urbez non è sempre così bravissimo Mauri noto che si mette sempre più slanzo in Mauri quindi cerchiamo di fare il nostro dovere mi raccomando perché è un fantastico canale anche il suo video di The Urbez Milano quindi benissimo fantastico like iscrivetevi qua è stato caldo ma è caldo di brutto eh eh adesso è venuto un bel caldo adesso perché stamattina quando siamo venuti c'è aspetta io esco un po' scusa vado qua nel giorno e cari amici da questo fantastico posto al bellissimo sole d'agosto siamo riusciti al deposito del grano a Pavia cari amici immancabile non poteva mancare oggi un'area sistemata di nuovo sistemata parco un'area che ha subito nel 1976 al 10 luglio tra i più gravi disastri chimici dell'industria chimica italiana stiamo parlando dell'Ikmesa di Seredo stiamo parlando dell'Ikmesa di Seredo l'Ikmesa di Seredo che produceva battericidi e pesticidi erbicidi roba quella campagna in generale roba anche per cosmetico eh si praticamente era una ditta dicevano di profumi nel senso eh sia per la campagna erbicidi per per la campagna e sia anche per la cosmetica cosmetica battericidi per eh per la pelle solo che cosa è successo a un bel momento eh le lavorazioni dovevano essere a 135 gradi portarono la lavorazione a 200 gradi perché perché da cinque ore per fare una lavorazione ci mettevano era soltanto perché il prodotto veniva miscelato all'acqua e poi bolliva e ciò che rimaneva sulla condensa si prendeva in questo modo si prendeva il prodotto poi l'acqua veniva fatta defluire sempre il fiume sevese qua vicino quindi cosa succede che è un bel momento però a 200 gradi ci mettevi non cinque ore ma ma un'ora e così veniva prodotto però eh producendole a 200 gradi eh si produceva quindi anche diossina poi una volta non ha funzionato il raffreddamento e poteva esplodere tutto come esplodere in altre fabbriche per non far esplodere tutto la diossina viene liberata liberata nell'ambiente e la cosa terrificante devastò quest'area nel 1976 e Gennaro Gelmini e youtuber Mauri video Urbez Milano oggi al 4 di agosto 2019 una domenica siamo proprio qua siamo qua cari amici ma è una breve ripresa siamo siamo nel luogo Regione Lombardia Ufficio Speciale Seveso 1976-1985 nel 1985 viene creato questo parco sulla zona dove stava l'Icmesa la ditta che produceva per un disastro ambientale che avvenne eh Mauri che roba eh che situazioni e siamo venuti a a vedere come la fabbrica non c'è più e qua il fiume il fiume seveso che scorre ancora il fiume dove dove di solito i resti dell'acqua e le lavorazioni venivano scaricate qua all'inizio del parco aperto dalle 9 alle 21 tutti i giorni a quanto sembra e questo ancora il fiume seveso oggigiorno al 4 agosto 2019 e continuiamo l'esplorazione di là del parco ed ecco cari amici la zona inquinata dall'Icmesa a seveso abbiamo anche delle foto storiche qua la zona A e tutto ciò che successe in quel periodo 1976 dal 10 di luglio infatti zona inquinata zona A e qua Mauri no ehm sono no sono ghiande le ghiande e questo è un bellissimo albero e una quercia e infatti il parco delle querce ecco la quercia scusate la mia voce mi si è abbassata un po' maltrattata dal mio discorso ma si però notare la natura è ritornata quindi che pensare Mauri questo ritorno della natura che bene no che la natura ha preso il sopravvento in un posto che era praticamente da buttare via meno male bene bene la speranza è anche questa cari amici bene vivere sperando ma ne vale la pena come per questa fantastica pianta cari amici ciao ve la do gratis acqua bella fresca che è estate bevete bevete rallegratevi cari amici vent'anni dopo può darsi che sia buona l'acqua migliorata la diossina rimane soprattutto nel primo anno già dopo il primo anno diminuisce del 50 per cento si c'è sempre un po' di traccia però non è quindi insomma ma è buonissima saluti possiamo gustare questo bellissimo lago in questa zona che l'hanno fatta apposta per riqualificare ambientalmente la zona con bellissimi pesci cari amici fantastico qua il laghetto l'acqua migliorata l'acqua migliorata ma